Sicuramente è un risultato che fa male perché prendere cinque gol anche a livello morale può essere molto deleterio. Ma penso che in questi momenti la cosa da fare è cercare di accantonare subito questa brutta sconfitta, farne tesoro ovviamente e continuare a lavorare più uniti di prima. Perché comunque il campionato è lungo e le partite sono tante ancora quindi diciamo sì è vero perdere in casa fa male però non dobbiamo demoralizzarci. Abbiamo preso tre gol senza subire tiri in porta alla fine e questo ci deve far pensare perché è vero che l'arbitro sicuramente ci ha messo del suo però non dobbiamo concedere questi gol così facilmente. Su questo dobbiamo lavorare e dobbiamo migliorare perché comunque insomma quando si gioca in casa prima di concedere un gol all'avversario insomma secondo me devono sputare sangue come si dice in gergo. E poi sì noi diciamo che comunque abbiamo provato sempre a cercare di fare gol o comunque di giocare e stavolta però non siamo riusciti a rivaltare la situazione. Tutte le partite come ho detto sono delle battaglie ormai non c'è niente di scontato e dobbiamo credere in questo perché comunque una giornata può cambiare tutto.